Dopo quasi due anni di chiusura a causa dell'emergenza Covid, ha riaperto l'ospice dell'ospedale Umberto I di Motola. Oltre a 42 posti letto di RSA R1, la struttura ospita altri 20 posti per la presa in carico di pazienti oncologici dopo una dimissione protetta da parte di tutti i reparti dell'ASL di Taranto. Il direttore generale Gregorio Colacicco, il dottor Salvatore Pisconti, direttore della struttura complessa di oncologia medica dell'ASL Ionica e il direttore sanitario Sante Minerba hanno voluto incontrare il personale dell'ospice di Motola che è gestito direttamente dall'ASL. Ove un paziente che è a domicilio per cure palliative nell'ambito dell'ospice diffuso domiciliare può anche essere ospitato qui per sostenere le funzioni vitali. Il modello organizzativo della nostra azienda vuole essere quello che a partire dal coro, dal centro di orientamento oncologico che determina la prima presa in carico con le liste criptate per gli approfondimenti diagnostici, il rilascio dello 0,48 per gli aspetti correlati all'invalidità civile. Quindi dopo quello che può essere un periodo di ricovero perché è in linea con quanto previsto dal PNRR la casa dell'assistito è il miglior luogo di cura. Quindi paziente a domicilio, cure palliative degli stessi operatori anche a domicilio e perché no prima di dimettere il paziente un sopralluogo per vedere se quel domicilio, quell'abitazione ha i requisiti strutturali quantomeno che igienico-sanitari per poter riprendere un paziente che ha bisogno di cure.